Dal 2016 fa coppia Cristiano Ronaldo, l'attaccante acquistata dalla Juventus per oltre 100 milioni di euro Modella con un passato da ballerina, Giorgina è una vera star dei social e solo su Instagram vanta oltre 24 milioni di follower e i suoi scatti non passano inosservati Lady Ronaldo è cresciuta a Iaca, una città nel nord-est della Spagna e parte della provincia di Nesca, vicino ai Pirenei La relazione con Ronaldo 2016, quando Giorgina viene avvistata per la prima volta con il campione a Disneyland Paris Le foto pubblicate su chi è il gossip impazzito? Cristiano Ronaldo ha una nuova fiamma Sì, e ben presto la coppia esce allo scoperto dopo mesi di frequentazione clandestina, lontana dal clamore mediatico Non solo perché è la compagna di Cristiano Ronaldo, ma anche perché è molto riservata e poco abbezza al gossi È entrata subito nel cuore dei tifosi juventini La compagna di CR7 è madre di Alana Martina, 4 anni, avuta dal calciatore portoghese e madre adottiva dei tre bambini nati da madri serugat, Cristiano J.R., 11 anni, Eva e Matteo, 4 anni Prima di diventare modella e diventare la compagna di Cristiano Ronaldo, ha studiato danza e inglese a Londra e poi ha lavorato in una boutique a Madrid per un famoso brand del lusso Davanti a lui tremavo, ma è scattata una scintilla, ha raccontato tempo dopo l'ex modella ricordando il primo incontro con CR7 Leggi anche Ma com'era prima di incontrare Cristiano Ronaldo? Sui social si trovano alcune foto dell'ex modella e secondo alcuni Georgina sarebbe ricorsa alla chirurgia per aumentare il volume delle ladra e correggere la simmetria del naso E' sorto anche il dubbio sul seno, ma la compagna di Cristiano Ronaldo non ha mai confermato alcun ritocchino estetico Odisca So sottototot podeverb Grow anymore Bicchi So sottototot? Interprete